Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi andiamo a vedere oggi il vincitore della ruota e vince Massimo Pazzo facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo in un video super interessante ovviamente i Fortnite News abbiamo importanti novità per una collaborazione oserei dire leggendaria infatti si parla di Fortnite X Minecraft e questa volta ragazzi sembrerebbe che sia veramente molto molto possibile adesso ovviamente andiamo a vedere tutti i leak eccetera prima di cominciare il solito like che è fondamentale se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina condividi il video e detto questo partiamo subito iniziamo con qualche piccolo leak innanzitutto tre bundle ragazzi da 15 euro sono stati scontati a 7,99 euro quindi in pratica 8 euro ve li consiglio ragazzi se li volete prendere questa è veramente l'occasione giusta questi sono super scontati quindi se dovete magari prenderli eccetera approfittatene perché veramente sono strascontati sia su Playstation che su tutte le altre piattaforme mi sembra quindi anche Nintendo Switch, PC eccetera e niente questi sono i tre bundle scontati sono due bundle di lava e un bundle estivo parliamo poi ragazzi di due modifiche che sono state apportate in game innanzitutto il fucile d'assalto da combattimento è ritornato in game sia sulla modalità ovviamente 0 costruzioni che sulla modalità con build quindi lo potete adesso trovare altra arma che è stata modificata il danno alla distanza massima è stato ridotto per il bump fucile quindi queste sono due modifiche apportate insomma ieri mi sembra con il content update che sapete che modifiche non fanno cose di solito e poi tra le altre cose è anche arrivata la modalità arena no build ne ho parlato nel video scorso con le ricompense eccetera quindi se volete andatevelo a rivedere e niente ragazzi queste sono diciamo le modifiche poi hanno fatto anche qualche modifiche i pump eccetera ma adesso ragazzi andiamo a vedere le news per quello che riguarda fortnite x minecraft infatti dopo la super news è che a fine agosto ci sarà la collaborazione con dragon ball fortnite non si ferma qui e sembrerebbe che ci sia in arrivo anche una collaborazione questa volta con minecraft ragazzi è possibile ragazzi infatti andiamo a vedere il leak che ha fatto partire il tutto innanzitutto in un nuovo blog della modalità creativa di fortnite è stato praticamente menzionato per la prima volta il nome di minecraft mettendo a confronto i due giochi con alcuni consigli per gli educatori quindi hanno fatto un blog che trovate anche sul sito di epic se volete leggerlo eccetera e da qui è partita insomma le voci su twitter che si parli di una collaborazione con questi due videogiochi poco dopo invece arriva un'altra news molto importante da un leaker super affidabile che già in passato ha rivelato molte collaborazioni o comunque molti leak infatti praticamente secondo questi leaker potrebbe arrivare presto un pacchetto ragazzi di minecraft su fortnite quindi sembrerebbe che con questo pacchetto si intenda forse un bundle di skin quindi una collaborazione che avverrà nello shop possibile anche se diciamo che pacchetto potrebbe essere ancora un pochettino da intendere ora vi spiego il perché comunque sembrerebbe che ci sia la possibilità che arrivi questo pacchetto in collaborazione tra fortnite e minecraft su fortnite e adesso poi dopo pochi minuti da quella news sono usciti su amazon ragazzi su amazon dei pacchetti tra fortnite e minecraft acquistabili infatti come possiamo vedere c'è innanzitutto la versione di xbox con il pacchetto di fortnite quello delle skin del minty quindi alla menta che viene comprato insieme a minecraft come possiamo vedere in versione speciale e quindi questo è già una cosa un po' strana su amazon vengono venduti proprio insieme ma ragazzi non solo su xbox c'è stata questa collaborazione anche su nintendo switch si può comprare fortnite cioè il pacchetto alla menta associato al pacchetto insomma normale di minecraft quindi il videogioco normale e si possono trovare su amazon e già questa ragazzi comunque una collaborazione tra loro e ripetendo le parole che ci ha detto il leaker è probabile che magari possiamo anche vedere direttamente quindi questo pacchetto di minecraft direttamente su fortnite quindi nei negozioggetti magari ci sarà anche l'evento dedicato come è stato con naruto con le sfide con il sito eccetera questo ovviamente sono teorie però potrebbe avvenire una sorta di collaborazione di questo genere con poi ovviamente tutte le skin nei negozioggetti come magari faranno probabilmente anche con goku e dragon ball comunque in generale e io ragazzi mi immagino nei negozioggetti la skin di minecraft no quella classica e poi associato un piccone che praticamente la spada no per uccidere i mostri su minecraft cioè io mi immagino un set del genere nel negozioggetti quanto veramente possa far esplodere la community magari con anche altri sicuramente cosmetici eccetera se fatta bene veramente può fare veramente grandissime cose questa collaborazione ma non solo per i negozioggetti per la creativa perché la creativa potrebbe magari la creativa 2.0 potrebbe magari anche mettere diciamo piede anche un po' sul diciamo stile diciamo di minecraft potrebbe esserci una modalità anche magari simile per esempio in collaborazione ora sto fantasticando ovviamente però sarebbe veramente fighissimo una collaborazione anche proprio con la creativa di fortnite e minecraft stesso che si faccia qualcosa magari una modalità carina con la creativa 2.0 che ne so magari creativa normale sarebbe molto molto carino secondo me anche perché proprio in un blog della creativa l'abbiamo letto è stato accennato minecraft quindi interessante no come cosa detto questo questi sono tutti i leak che abbiamo per il momento non abbiamo altre news se non queste che vi ho appena detto fatemi sapere cosa ne pensate se secondo voi ci sarà quindi questo evento in collaborazione con minecraft e fortemente cosa insomma succederà eccetera e niente noi ci vediamo comunque domani mi raccomando like iscrizione se non sei ancora iscritto con la campanellina e noi ci vediamo domani pomeriggio ragazzi bello ciao 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 Grazie a tutti.